buongiorno ragazzi oggi parliamo dell'asse di un segmento quindi asse di un segmento quindi disegniamo prima di tutto un segmento disegno per esempio un segmento a b di 10 centimetri dobbiamo trovare il suo punto medio vi ricordate punto medio vuol dire che lo divide a metà allora se il nostro segmento era da 10 cm con il mio righello segno la metà dopo 5 cm e trovo il punto m allora poi come facciamo a costruire l'asse riappoggiamo il righello sul segmento perché mi deve fare la guida e uso la squadretta quella dove io già l'altra volta avevo indicato l'angolo retto con il pennarello verde quindi appoggiamo la squadretta in modo che possa scorrere sul righello che fa da guida e ci fermiamo dove c'è il punto che abbiamo trovato prima il punto medio quindi tracciamo la retta che passa per questo punto poi tolgo il righello e prolungo dall'altro lato questa retta perché la riconosco perché tratteggiata indichiamola con a questa è l'asse del segmento quindi lo incontra nel punto medio ed inoltre formando angoli di 90 gradi allora l'asse del segmento è quindi quella retta che divide a metà un segmento ed è perpendicolare al segmento dato come possiamo scrivere possiamo scrivere che la retta è perpendicolare al segmento a b e siccome lo divide a metà avremo anche che a m sarà uguale a b m allora vediamo poi un altro concetto quello di distanza da una retta distanza di un punto da una retta chiamiamola r anche qua allora disegniamo una generica retta non deve essere per forza orizzontale quindi tratteggiamo gli estremi per ricordare che la retta è infinita e prendiamo un qualsiasi punto p che non appartenga alla retta quindi dobbiamo costruire la distanza di questo punto dalla retta r non possiamo costruire un generico segmento ma dovrà essere un segmento perpendicolare alla retta quindi io riappoggio il mio righello sulla retta uso la squadretta perché mi serve l'angolo retto allora traccio questo segmento che deve essere perpendicolare alla retta e la incontrerà in un punto h allora h viene chiamato piede della perpendicolare questo segmento ph invece è la distanza del punto p dalla retta r quindi cosa avremo avremo che questo segmento ph è perpendicolare alla retta r ed essendo un segmento possiamo anche misurarlo per esempio questo mio punto p dista dalla retta r 5,9 centimetri perciò se devo costruire la distanza di un punto da una retta devo tracciare un segmento che sia perpendicolare alla retta e passi per quel punto utilizzando sempre la costruzione delle perpendicolari possiamo costruire anche un'altra cosa fare la proiezione di un punto su una retta r allora ridisegniamo la retta r prendiamo un punto p che non appartiene alla retta anche qui se vogliamo proiettare il punto sulla retta r dobbiamo utilizzare la costruzione della perpendicolare quindi riappoggiamo il righello riutilizziamo la nostra squadretta e tracciamo un segmento tratteggiato che mi porta il punto p sulla retta r trovo un punto più primo che gli corrisponde quindi la proiezione del punto p e quest'altro punto ma anche qui come abbiamo fatto abbiamo dovuto costruire una perpendicolare quindi formare degli angoli da 90 gradi è possibile però fare anche la proiezione di un segmento non di un solo punto quindi questa volta facciamo la proiezione di un segmento ab sulla retta r ridisegniamo allora la retta questa volta faccio inclinata nell'altro senso questa è la retta r prende un segmento ab qualsiasi che non appartenga alla retta mi scrivo gli estremi a b cosa vuol dire proiettare questo segmento sulla retta r vorrà dire ancora tracciare delle perpendicolari quindi riposizioniamo il righello sulla retta r utilizziamo la nostra squadretta e quindi quando arriviamo nel punto vi tracciamo la sua proiezione e troverò un punto sulla retta r che si chiama b primo poi proseguo facendo scorrere la mia squadretta finché non arrivo ad a tracciamo quindi la proiezione del punto a sulla retta troverò un punto a primo ho trovato quindi due estremi allora ripasso con un colore questo segmento il segmento a primo b primo questo è la proiezione di ab osserviamo anzi usiamo il righello per misurare secondo voi hanno la stessa misura questi due segmenti no infatti il segmento a b misura sei centimetri mentre segmento a primo b primo è più corto né misura 5,7 di centimetri quindi non sono uguali vediamo i vari casi che si possono presentare nella proiezione di un segmento su una retta r quindi passiamo ad un altro disegno allora tracciamo la retta retta r la traccio un po lunga perché così vi faccio vedere tutte le possibilità che possiamo avere retta r allora tracciamo un segmento a b come prima che è un po inclinato a b traccio poi un segmento cd che in realtà è proprio perpendicolare alla retta r e poi traccio un segmento e f che è parallelo alla retta r vediamo cosa succede nei vari casi quindi mi segno qua fiamma che cd è perpendicolare alla retta r e f è parallelo alla retta r quindi sono due casi particolari allora abbiamo visto prima che per poter tracciare la proiezione di un segmento dobbiamo costruire delle perpendicolari quindi io appoggio al solito il mio righello sulla retta che mi fa da guida quindi traccio gli estremi e proietto quindi a e b ottengo a primo b primo come prima ripasso di colore il segmento che sarà la proiezione poi ragioniamo su come sarà la lunghezza poi riposiziono il mio righello sulla retta r e traccio invece la proiezione di cd poiché sono allineati tutti e due perpendicolari alla retta r qui ho costruito sia perpendicolare ma me ne basta una sola quindi ho trovato un unico punto c primo in questo caso sarà coincidente con di primo quindi ho proiettato il mio segmento cd ma siccome era per perpendicolare alla retta r la sua proiezione è un solo punto e f invece vi ricordate l'abbiamo costruito parallelo alla retta r cosa succederà allora costruiamo le proiezioni dei due estremi del segmento e ed f e quindi otteniamo i punti e primo ed f primo il passo con un colore più ottenuto ancora un segmento se andiamo a verificare in questo primo caso dove il segmento a b non era né parallelo né perpendicolare alla retta r avremo che a primo b primo è minore di ab se vado ad osservare invece cosa è successo quando considero un segmento cd perpendicolare alla retta r otteniamo che il segmento cd si è ridotto un solo punto consideriamo invece e f che era parallelo alla retta r se vado a misurare con il mio righello allora il mio segmento di partenza era 5,1 cm e cosa sarà la sua proiezione è ancora 5,1 cm potete verificarlo quindi se i due segmenti se il segmento f è parallelo alla retta r allora i due segmenti quello di partenza e la sua proiezione avranno la stessa lunghezza